Ok, in questo video voglio farvi vedere come funziona la modalità di scatto ad alta risoluzione con l'Olympus M5 Mac 2. Come vedete ho messo la macchina su un cavalletto assolutamente robusto, in questo caso è stata utilizzata una gabbia di luce per il tipo di scatto di still life che deve essere creato. Vediamo nel menu come è stata impostata la macchina, si va in scatto ad alta risoluzione, ho impostato scatto ritardato di 4 secondi per evitare ogni piccola vibrazione e poi ho impostato tempo di ricarica per i flash di 1 secondo. A quel punto si dà l'ok, qui ho impostato ISO 100, la modalità più bassa, bilanciamento del bianco automatico, modalità alta risoluzione, lo stabilizzatore si disattiva automaticamente. Ok, siamo pronti, la messa a fuoco con la modalità focus peaking. ok, facciamo il nostro scatto, adesso vedrete che verranno eseguiti 8 scatti flash, ok, la macchina sta processando, vediamo il risultato finale, andiamo a ingrandire questo livello di dettaglio che si riesce a raggiungere, anche le sfumature di grigio sono sicuramente meritevoli.